La morte di due ragazzi a Ribera ha scosso l'intera cittadina. Si attendono ancora risultati dell'autopsia effettuata sui due giovani di 21 e 38 anni, deceduti lo scorso 10 novembre, ma si suppone che la causa del loro decesso sia riconducibile all'uso di sostanze stupefacenti. Le forze dell'ordine stanno seguendo questa pista. Non è da escludersi infatti che i due abbiano assunto della droga e che la morte avvenuta a distanza di poche ore l'una dall'altra possa essere stata causata da un'overdose. Una notizia che non ha lasciato, indifferente la comunità religiosa di Ribera, guidata dall'arciprete Don Giuseppe Argento, spingendo tutti i sacerdoti della città a rivolgersi, attraverso una sorta di lettera aperta, ai giovani del territorio. Preti che dopo aver manifestato la propria vicinanza alle famiglie dei ragazzi scomparsi, si mettono a disposizione in prima persona, dicendosi pronti ad ascoltare i problemi dei giovani per provare ad allontanarli dalla droga. Si legge testualmente. Per far fronte comune, con una progettualità sinergica e condivisa, per dare risposte valide che aiutino i nostri ragazzi e i nostri giovani a riappropriarsi della bellezza della loro vita e dei loro sogni, non lasciandosi ammaliare da percorsi che come conclusione hanno la morte. Non escludiamo, scrivono ancora i preti presenti a Ribera, l'ipotesi di creare in città un centro di ascolto che aiuti i giovani e famiglie ad orientarsi. Non sacerdoti vogliamo esserci, concludono, perché voi siete la nostra gente. Insomma, la Chiesa scende in campo, non rimane sorda all'allarme droga. Una tematica complessa e che riguarda il mondo giovanile in realtà non solo di Ribera. Un tentativo, quello innescato dai preti a servizio della locale comunità, apprezzabile e che si spera possa concretizzarsi in breve tempo, portando ai risultati sperati.